Qui abbiamo le tartarughe, queste sono quelle grandi e lì sono quelle più piccole, molti pelli, occhio che c'ha le zamette, guardate ho preso una tartaruga, speciale, guarda che c'è il collo lungo, guardate, ammirate una tartaruga simpatica che adesso viene con noi per una bella avventura, qua c'abbiamo i palloni, siamo amici, poi qua c'abbiamo il fusile che praticamente gli ha fatto grrrr e poi vieni i gattini, poi andiamo a vedere i pappagalli, guarda ti piace i pappagalli, poi andiamo a vedere che cosa, eh penso che sono finiti boss, ora vediamo questi bei bei vasi, vieni cazzo, poi andiamo a vedere le preghiere, le preghiere, guarda, è davvero figo tenere una tartaruga, vieni tartaruga, poi andiamo da questa parte, abbiamo un accondino segreto, ti pieghi che cos'è il piove, guarda che bella giornata, gattino, vieni tesoro, lo so che vi adoro, oi, ti vogliono mangiare boss, è diverso, guarda che bella terrazzo, ti piace? guarda, che cosa si vuole dire questa tartaruga che si aveva fatto? credo nulla, signori mi trovo qualche sentimento di compassione, o di angoscia, quella tartarenia che è collezionale, per l'inverno, infatti che fa tanto caldo, però che fa tanto freddo, vieni con me, andiamo indietro, vuoi un po' di coccoli? Vieni amore, vieni, saliti, così, ti va se ti porta, così, schiano, ok, guarda, gattino, andiamo, non lo prende così però, guarda che questo sei lì bella, ti mi sa, come ti... Tartaruga, cammino, guarda, riprendiamo tartaruga, vieni, ti voglio bene, va bene. Ti riporto dove sono i pino, andiamo gattino, ritorniamo indietro, vieni gattino, miau miau, non fa proprio così il gatto boss. Gattino, vieni! Ah, c'è un altro gatto. Ah, ecco, un altro gatto, mi fudi. Gattino, ti conosciamo? Gattino, mi presento, mi chiamo Fabio Perfetto e tu come ti chiami? Io sono troppo carino, è vero? No, un po' una sifida. Sì, che sifida, guardalo. Guarda qua, è un po' fubacchione, è vero amore? Che cosa vuoi dire questo discorso, boss? Dovremmo riportarla nel fuoricino? Sì. Così va a mangiare? Vieni, venite con me voi giù, andiamo. Vieni. Dobbiamo fare attivare la vostra attenzione. Sulla tartuna. Infatti. Vabbè i gatti sono profatici, boss. Vieni qua. Guarda quanto è bello. Eccoli, eccoli. Ciao. Ciao. Ti vediamo. Alla prossima. Andiamo a riposarla. Speriamo il video e salutiamola. Ciao. Ciao. Guardate, sta a seguire il gatto. Sì. Ti fai una bella foto. Eh dai. Aspetta dove? Allora lì aveva il gatto. Vieni gatto. Scusa a chiamare. E' un po' il gatto. E' un po' il gatto avvicinato come... Se tu cammini lui cammina. Fami una foto qui meglio, qua, deve essere perfetto, si vede, saluta, a posto, buonissima tattaruga, ti sei comportata benissimo, guarda!